Nel 2021 sono state finora 385 le chiamate di soccorso pervenute soltanto alla Polizia di Stato in provincia di Pescara da donne vittime di violenza di genere. Di queste, 29 sono state inserite nel programma Scudo che prende in carico persone che corrono rischi per la propria incolumità. Sono numeri dietro i quali si nascondono storie di sofferenza al femminile, ricordate nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade proprio il 25 novembre. Per accendere i riflettori su un problema che troppo spesso si tramuta in femminicidi che in su diciano le cronache, tra le tante iniziative di oggi c'è anche l'arrivo del camper rosa della Polizia di Stato che con la sua squadra di specialisti ha fatto tappa in piazza della rinascita a Pescara come spiega il questore Luigi Liguori. Sono circa dieci anni che la Polizia di Stato occupa le piazze per raggiungere i cittadini, in questo caso gli studenti. Il questore ha il potere di ammonimento nei casi in cui si faccia violenza di genere. Le indagini vengono condotte dalla squadra mobile dove c'è una sezione specializzata. I reati cosiddetti di genere sono diminuiti nel 2020 e sono in netto aumento nel 2021. Sono dei reati difficili da decifrare perché a volte la violenza si manifesta con degli atteggiamenti apparentemente innocui. Per il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, il coinvolgimento delle scuole è fondamentale per formare gli uomini e le donne di domani. Sono molto importanti queste giornate soprattutto per far capire che le istituzioni sono molto presenti su questo fenomeno. C'è una rete molto capillare proprio per aiutare chi è in difficoltà sia nella fase di prevenzione sia nella fase successiva. In Piazza della Rinascita anche lo stand del Centro Antiviolenza Ananche che collabora con la polizia prendendo in carico molte delle denuncianti. Brunella Capisciotti, psicologa di Ananche, ci ha spiegato le ragioni dell'iniziativa Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano, slogan con cui è stato distribuito del pane simbolico con l'ausilio degli studenti dell'Ipsar De Cecco di Pescara presenti oggi in piazza. Il centro si occupa di accogliere le donne che vivono una situazione di violenza che nel 97% dei casi è una violenza domestica. Quindi l'idea di distribuire il pane è di far arrivare dentro le case dove si consumano queste violenze. Il messaggio che dà la violenza si può uscire per rinascere insieme ai propri figli e le proprie figlie. È vero di violenza si muore quindi è importante tirarsi fuori dalle situazioni di rischio. Noi abbiamo avuto donne che sono state poi accolte in uno dei centri delle case rifugio ad indirizzo segreto della rete antiviolenza dire e che hanno potuto attraverso inserimenti lavorativi e tirocini rifarsi una vita al sicuro, protette. Che tipo di violenza viene denunciata? La violenza innanzitutto è psicologica, poi abbiamo le violenze fisiche e poi abbiamo molti fenomeni di stalking che sono stati anche rilevati durante la pandemia. Molti mariti usano il controllo della vita sociale della donna quindi lavorare è un modo per vivere l'esterno. Se una donna non ha risparmi, non ha un lavoro ci pensa tanto prima di andare via soprattutto in situazioni di crisi economica.